Maggiore e minore come arriva in mezzo, che poi adesso ne va a dire, come che è finito dentro, anche strana questa cosa qua, vabbè sto guardando un po' di cose strane, quando ci sono i nominativi doppi, è che sto pensando, sta chiedendo un questione, sto aprendo un'altra nel senso, davvero il primo nominativo che dice questo e apre il secondo nominativo, in questo caso vedo che c'è anche 44, come diciamo rapporto al secondo nominativo, questo mondo spero da lo città nella situazione, ci sono una riga, chiude due po' esso, una riga chiude, chiude un po' esso. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.